Clamoroso colpo sabato sera in una pizzeria di Cantù. I ladri sono entrati all'ora di cena, probabilmente fingendosi clienti, e sono poi riusciti ad intrufolarsi nei locali privati e riservati al personale, dove hanno trovato e svaliggiato la cassaforte. Poi si sono dileguati, forse uscendo dall'appartamento dei titolari del locale, senza ripassare dalla pizzeria. Il colpo è stato messo a segno alla Canturina, noto locale di Via Milano. Ad accorgersi del furto attorno alle 20.30 è stato un dipendente del locale. Dovevo accedere alle stanze di servizio riservate al personale, ha riferito, e mi sono accorto che la porta era chiusa dall'interno. Ho subito capito che qualcosa non andava. Quando sono riusciti a sfondare la porta, i ladri ormai si erano dileguati, dopo aver messo sotto sopra le stanze dell'appartamento privato, e soprattutto dopo aver forzato la cassaforte, svuotata dell'intero contenuto, alcune migliaia di euro secondo le prime informazioni. Alla Canturina sono stati subito chiamati i carabinieri di Cantù, che stanno lavorando per risalire ai responsabili del colpo. Il ladro, o più probabilmente i ladri, sono entrati nel locale all'ora di cena, sfruttando il momento di massimo afflusso. Si sono finti i clienti, poi hanno probabilmente fatto finta di andare in bagno, e invece hanno aperto la porta riservata al personale e allo staff, e hanno raggiunto le stanze private.